Significa sostanzialmente due cose, che quest'area ne aveva fortemente bisogno, è stata una richiesta che è arrivata dal territorio, che la città ha voluto ascoltare, ma significa soprattutto portare l'acqua a chilometri zero anche qui, ridurre il consumo di plastica e di bottiglie, quindi che è uno dei principali scopi di mettere le casette dell'acqua, che consentiranno di avere acqua refrigerata, quella naturale gratuitamente, quella frizzante a un prezzo veramente irrisorio, questo consentirà ai cittadini di potersi rifornire e di ridurre sensibilmente il consumo della plastica, probabilmente questa può essere una delle soluzioni per ridurre il consumo di plastica, anche perché l'acqua oltre al tema del consumo di plastica è anche un bene primario ed è un bene comune ed è giusto che rimanga tale, questo ci consente di farlo rimanere tale il più possibile e soprattutto di raggiungere i risultati ambientali che ci aspettiamo. La casetta dell'ASMAT è un elemento positivo su tutti i fronti, perché non è solo un servizio, ma il simbolo del ruolo dell'ASMAT nella città di Torino è l'orgoglio per l'acqua pubblica, un'acqua pubblica di livello, un'acqua pubblica che sappiamo viene usata anche alla NASA, quindi per i cittadini avere un posto in cui poter prendere l'acqua refrigerata e anche è l'acqua frizzante, vicino a casa, senza dover far necessariamente uso di plastica, è un posto estremamente positivo, lo desideravano da tanti anni, ricordiamo che le firme sono state più di 470 per chiedere questa casetta, raccolte nel 2017, qui oggi c'è anche il promotore della raccolta firme che ha lanciato quest'idea, aveva individuato un punto proprio qua vicino, ma quello non si poteva fare tecnicamente, questo è stato il punto successivo e quindi la gioia è molto grande per le case che sono di fronte, ma per tutto il quartiere. E poi alle sue spalle un cantiere, un cantiere che testimonia un cambiamento che sta vivendo tutta quest'area, che cosa sta succedendo alle sue spalle? In quest'area abbiamo fatto un percorso partecipato con la cittadinanza, costruito insieme a loro, insieme agli uffici tecnici del comune, una progettazione condivisa e adesso sono partiti i lavori che si concluderanno nell'arco di qualche mese, proprio per trasformare quest'area in un giardino fruibile dei cittadini. Prima questa era un'area sostanzialmente a Gerbito, non succedeva nulla, era un'area un po' lasciata andare e adesso diventerà un parco di circa 16 mila metri quadri. Nella progettazione condivisa è venuto fuori un po' di tutto, un'area giochi per bambini, alcuni attrezzi ginnici, dei posti per camminare, per fare del jogging, insomma un po' di tutto. E come tempisti e quando è che sarà pronto questo? Mi sembra all'incirca un paio di mesi dovremmo essere a porto con l'area. La riqualificazione immateriale è parte del percorso perché un'area verde di per sé se non è condivisa con il territorio e nasce e basta, non ha lo stesso valore di un'area condivisa, scelta insieme ai cittadini e partecipata. Sì, è una progettazione partecipata promossa dai cittadini, seguita soprattutto dagli uffici comunali, tutti gli elementi di progettazione partecipata per i territori sono elementi fondamentali, e siamo felici che si parta proprio dalla casetta della Smatto perché è un'integrazione di due percorsi in qualche modo differenti, prima la raccolta firme e poi una progettazione partecipata. Siamo alla fine del suo mandato come Presidente di Circoscrizione, che circoscrizione si sente di lasciare? Sento di lasciare una circoscrizione che fa ancora molta fatica per elementi pregressi, per problemi sociali, anche per le condizioni economiche. una circoscrizione che fa fatica per il Covid, ma una circoscrizione estremamente combattiva, con una grandissima voglia di farcela, con un grandissimo impegno. Quindi la lascio con veramente la nostalgia perché gli stimoli, i richiami, la forza che mi è stata trasmessa dalla circoscrizione 6, credo non avrei potuto trovarla in nessun altro luogo del mondo.